Il viaggio Esistono fondamentalmente due modi di concepire un viaggio, il primo dedicato interamente alla meta da raggiungere, il secondo all'auto. Noi abbiamo scelto un viaggio e un'auto capaci entrambi di soddisfare queste caratteristiche. Da una parte innanzitutto una grande comodità, un comfort di guida, mille chilometri da Modena, la capitale del Tridente, fino a Reims, la capitale dello Champagne, nel nord della Francia a un'ora e mezza da Parigi. Con un'auto dalla grande tradizione di viaggio come solo una gran turismo sa essere. E poi la sportività che troviamo qui, sugli 8,2 chilometri del vecchio circuito di Go Reims, oggi aperto al traffico, grazie alla Maserati Gran Turismo S Automatica, che ripercorre questi chilometri sfogando tutto il proprio DNA. Grazie. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti